questo video ve lo dovevo perché sopra c'è la pasta di cecco italiano come la conosciamo noi e sotto c'è l'oltranza all'italia ce loro vendono questi scatoli dove fortuna mia ce n'è uno rotto aperto dove c'è già la pasta cotta non so se potete vedere col sugo già pronto questi buttano questa pasta nell'acqua calda anzi mettono il sugo la buttano nel microonde e mangiano io sono sempre più scomporta non riesco neanche più a dirlo